La Regione Campania ha revocato il finanziamento da 25 milioni di euro per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti sul territorio di Ponte Cagnano-Faiano. Alla base della decisione, stando al decreto dirigenziale, le inadempienze del Comune rispetto all'iter di attuazione dell'intervento, rallentato dalla lunga querel sulla localizzazione del biodigestore, chiamato a trattare 30.000 tonnellate di rifiuti organici all'anno. Il Comune, secondo quanto stabilito dalla Regione, dovrà anche provvedere a restituire i 12.000 euro già utilizzati quale anticipazione per il raggruppamento temporaneo di imprese a giudicatario dell'accordo quadro per la redazione del progetto di fattibilità. Lo stesso decreto della Regione, però, apre a possibili rifinanziamenti dell'opera. L'ufficio, si legge nel decreto, ha avuto indicazioni dall'organo politico di reperire le risorse per la realizzazione dell'impianto a valere su fondi strutturali, comunitari e nazionali del ciclo di programmazione 2021-2027 o su altre fonti di finanziamento che si renderanno disponibili.